Benvenuti a tutti, buonasera, di nuovo benvenuti a tutti i partecipanti, grazie per l'interesse dimostrato. Questa presentazione intitolata compatibilità elettromagnetica nei sistemi interconnessi di edificio e dispositivi IoT vuole andare a prendere in esame tutte quelle problematiche legate all'infrastruttura fisica che è necessaria per sostenere le funzionalità di questi sistemi. Vediamo adesso nel dettaglio, cominciamo a vedere, a introdurre i contenuti della nostra presentazione, quindi andremo a focalizzare la nostra attenzione sulle abitazioni dotate di funzionalità smart, queste sono piuttosto varie e disparate, ne accenneremo alle principali e poi come dicevamo ci occuperemo della infrastruttura di supporto, ossia andremo ad esaminare quali sono le caratteristiche di questa infrastruttura, di come garantire una buona connessione perché tutte queste funzionalità si basano su un flusso di dati, quindi informazioni che possono essere comandi, che possono essere immagini, che possono essere contenuti audio, quindi le più disparate e naturalmente tutto questo flusso di dati deve essere veloce, affidabile e anche sicuro, veloce perché la velocità è richiesta, se abbiamo un flusso di dati video chiaramente abbiamo tutti le brutte esperienze, tra l'altro noi in questi ultimi anni siamo stati costretti a lavorare spesso interconnessi ed è seccante quando il nostro Zoom, il nostro WebEx come il software che stiamo usando oggi o il nostro Teams blocca l'immagine, si perdono pezzi e questo perché la connessione non riesce a sostenere il flusso di dati richiesti, deve essere affidabile, cioè deve essere sempre garantita in ogni momento la trasmissione e deve essere anche sicura, ecco di questo aspetto noi non ne parleremo però chiaramente tutto questo flusso di dati che interagisce con la casa deve essere anche protetto da attacchi informatici che come sappiamo possono avvenire, è avvenuto recentemente alle ferrovie dello Stato e non è stata una cosa piacevole, quindi anche questo è un aspetto molto importante che vedremo di approfondire in altri momenti formativi. Andando invece sul lato fisico, cioè sulla progettazione fisica di questa infrastruttura di supporto, parleremo di potenza di trasmissione, accenneremo poi, presenteremo le principali problematiche di compatibilità elettromagnetica, naturalmente nel momento in cui io trasmetto dati devo cercare di trasmetterli in modo da evitare disturbi ad altre apparecchiature o ad altri canali di trasmissione, viviamo in un mondo dove ci sono tanti canali di trasmissione che funzionano contemporaneamente, noi abbiamo il nostro wifi ma c'è per esempio una trasmissione radio, una trasmissione televisiva che in contemporanea sta avvenendo su altre frequenze magari adiacenti alla nostra. Poi faremo qualche cenno a problematiche di esposizione dei campi magnetici dal punto di vista della protezione delle persone perché spesso viene il dubbio ma tutti questi campi elettromagnetici di cui andiamo a dotare diciamo così le nostre abitazioni, gioco forza per poter avere queste funzionalità, diciamo tutti questi campi elettromagnetici saranno pericolosi, saranno dannosi, è un dubbio lecito e anche qui vedremo che ci sono degli studi, delle normative, delle regolamentazioni che permettono di evitare appunto che ci siano situazioni dannose. Daremo poi qualche cenno al quadro normativo, vedremo un po' più nel dettaglio cosa significa un'emissione, una misura di emissione di compatibilità elettromagnetica per esempio e poi mostreremo un breve video del nostro laboratorio che con molta leggerezza vi porterà all'interno delle nostre attrezzature e vedete un po' velocemente quelle che sono le prove, quello che è l'approccio di laboratorio per apparecchiature elettroniche che utilizzano appunto la trasmissione dati o che contengono al loro interno dei microprocessori e che possono produrre interferenza proprio per il fatto stesso che sono in funzione e vedremo poi nel finale appunto di entrare, di esaminare con un po' più di dettaglio qualcuno dei risultati di misura e poi andremo alle conclusioni. Quindi questo è il piano della presentazione, la durata diciamo siamo sicuramente dentro, restiamo sicuramente dentro nel nostro tempo di un'ora, probabilmente finiamo un po' prima. Partiamo allora con focalizzarci sulle abitazioni smart. Allora abitazioni smart è un termine che è entrato nel lessico comune, è quello di questo aggettivo smart e si riferisce ad abitazioni in cui sono presenti sistemi di automazione che permettono la realizzazione di alcune funzioni che vedete qui rappresentate in grafica, quindi sono funzioni che non sono in assoluto una novità ma che si sono evolute nel tempo, quindi abbiamo sicuramente la termoregolazione, la gestione delle luci, la gestione degli oscuranti solari, la sicurezza, l'antintrusione, il controllo accessi, il controllo carichi, la diffusione musicale, tutte funzioni che vanno ad arricchire la funzionalità dell'abitazione e vanno a renderla più performante, più confortevole per la nostra permanenza. Queste funzionalità smart hanno naturalmente bisogno di un'infrastruttura adeguata. Concentriamoci per esempio su questo apparecchio, questo è un videocitofono connesso ed è in particolare il nostro prodotto classe S300 EOS. Questo è un videocitofono che aggiunge alla tradizionale funzionalità della videocitofonia, cioè una comunicazione con un canale audio video tra posto interno e posto esterno, quindi tra una persona che è presente in casa e qualcuno che è all'esterno e che vuole comunicare con noi o consegnarci un pacco come nell'esempio qui mostrato, però questo è anche interconnesso quindi alla rete wifi e permette tramite un'app di poter interagire, quindi di poter parlare con il nostro fattorino anche quando noi siamo fuori casa. Per cui io ho bisogno naturalmente che per poter esercitare questa funzionalità, naturalmente io ho bisogno che questo apparecchio sia collegato tramite il wifi di casa alla rete di distribuzione dati, alla rete di distribuzione dati pubblica dalla quale io accedo con il mio smartphone, quindi ho bisogno che quella comunicazione lì sia garantita con la giusta velocità, con il giusto bit rate e quindi questa è una necessità, altrimenti io non posso interagire, non posso vedere le immagini, tra l'altro poi l'esempio del postino non è anche quello più interessante, io ho la possibilità di interagire con le telecamere residenti per verificare se è tutto a posto a casa, io posso aver ricevuto un messaggio di allarme tecnico, questa è una funzionalità del sistema, a quel punto io sono lontano da casa, devo poter dare un'occhiata come prima, come primo feedback per capire cosa è successo, per cui io devo avere in quel breve intervallo di tempo, parliamo di un minuto, non di più, due minuti massimo, io comunque devo avere la funzionalità, devo avere un'immagine chiara senza interruzioni, senza inceppamenti, quindi qui in quel momento lì ho bisogno della velocità e l'affidabilità della rete e quindi della corrispondente infrastruttura. Vediamo adesso come vengono realizzati i sistemi, quindi i sistemi di home automation che da un punto di vista normativi sono chiamati con questo acronimo HBES BACS, questo è l'acronimo che significa Home and Building Electronic System, l'altro acronimo è Building Automation and Control System, sono più o meno la stessa cosa, si usano questi due termini in alternativa o in contemporanea semplicemente per ragioni storiche, ma stiamo parlando appunto di sistemi di automazione domestica, quindi i nostri HBES o come vogliamo chiamarli, sistemi di automazione. Ecco, questa è l'architettura e infrastruttura classica, cioè del sistema cablato su BAS, su coppia ritorta, quindi abbiamo un sistema BAS, abbiamo gli attuatori, abbiamo i comandi e quindi tutti i segnali viaggiano su questo doppino che cabla la mia abitazione. Naturalmente questa architettura si è evoluta e già da direi un paio di decenni esiste questo componente, il home server, il gateway, come lo vogliamo chiamare, che è il dispositivo che ci permette di collegare il dispositivo alla rete esterna, quindi attraverso la rete RAN vado al modem router e posso entrare quindi nella rete pubblica, nella rete internet. Poi in realtà io ho anche la funzionalità wifi in casa, per cui posso aggiungere alla funzionalità di controllo locale e di controllo remoto tramite rete cablata anche il controllo tramite rete wireless, per cui io posso utilizzare il mio smartphone anche all'interno dell'abitazione attraverso il wifi per poter comandare l'appartamento, quindi comandare le luci, comandare i miei carichi. Ecco, questa realizzazione, questa architettura è l'architettura classica che è nata per prima e si è sviluppata col controllo remoto. Questa è un'architettura ancora valida per fissare l'infrastruttura degli impianti più complessi. Un altro approccio che è quello degli oggetti interconnessi dell'Internet of Things e invece ha quest'altro approccio, cioè il componente stesso è direttamente collegato a una rete wireless presente nell'appartamento, quindi tipicamente al wifi e io questi oggetti li posso acquistare e introdurre progressivamente, quindi si sta sviluppando un mercato vastissimo di oggetti che hanno le più disparate funzioni. Qui vi ho mostrato il termostato connesso che è un nostro prodotto, prima abbiamo parlato del videocitofono connesso, ma esistono tutta un'altra serie di apparecchi, lo smart tv, quindi questo non è un apparecchio sorprendentemente connesso, diciamo che al televisore classico, quindi a un terminale di un impianto di telecomunicazione storicamente servito da un segnale di antenna viene aggiunta una funzionalità di interconnessione alla rete internet e quindi questo può interagire tramite wifi o tramite rete cablata, può essere interconnesso e quindi dare dei servizi aggiuntivi oltre al servizio tv tradizionale classico, quelli che un po' tutti conosciamo, le vari e le viare piattaforme digitali dove poter vedere film, partite di calcio e quant'altro. E poi ci sono altri oggetti più disparati, c'è per esempio la ciclette interconnessa che mi permette di fare una pedalata virtuale in qualche paesaggio, c'è la la macchina del caffè connessa a cui chiedo tramite assistente vocale di prepararmi un caffè e poi la fantasia qui non ha limiti, tutti oggetti che quindi vanno a interconnettersi sulla mia rete wifi che è di casa, sulla rete senza fili, sulla mia infrastruttura irradiata che ho nell'appartamento. Tutti questi oggetti che funzionano tramite app fondamentalmente hanno una connessione locale che tramite wifi va a collegarsi a un cloud e io dal mio smartphone da casa o anche da remoto basta che abbia una connessione a questo cloud posso interagire per cui io con questi apparecchi interconnessi posso interagire sia se sono in casa sia se sono fuori grazie appunto a questa connessione utilizzando o la rete locale wifi direttamente nel suo interno oppure indirettamente rete wifi e poi rete di telecomunicazione esterna. Questo è un altro esempio di infrastruttura radiata, qui riconoscerete i nostri dispositivi Living Now e qui abbiamo una situazione in cui abbiamo due tipi di rete, qui abbiamo i comandi che interagiscono con il gateway tramite protocollo Zigbee, questo per quanto riguarda l'utilizzo da smartphone, questi comandi poi possono funzionare anche manualmente se uno ha necessità, ha desiderio di accendere la luce in modo tradizionale, se uno lo vuol fare tramite appunto controllo remoto lo fa appunto per mezzo di questo gateway, poi è stato scelto di utilizzare lo Zigbee per collegare appunto per far dialogare i comandi con il gateway, e recentemente poi abbiamo esteso questa capacità al collegamento di apparecchi di illuminazione di altri costruttori, l'importante è che appunto comunichino con questo protocollo. Anche qui l'infrastruttura appunto è necessaria per sostenere questo impianto qui e che ci sia una buona propagazione del segnale Zigbee e una buona propagazione del segnale wifi e poi dopo una buona connessione alla rete esterna, di modo che così io posso utilizzare, posso beneficiare del mio flusso di dati appunto per fare questa operazione di controllo luci. Quindi riassumendo abbiamo un'infrastruttura radio che deve sicuramente garantire la corretta trasmissione e ricezione dei segnali, ha dei vincoli di potenza di trasmissione, perché io ovviamente per poter trasmettere bene do su di potenza, però ho dei limiti normativi da rispettare e dei limiti normativi da rispettare perché devo sì trasmettere, ma non devo poi disturbare le altre telecomunicazioni, è un canale come dicevamo riservato. E poi ci sono delle condizioni al contorno che sono appunto la compatibilità elettromagnetica e l'interazione dei campi elettromagnetici con il corpo umano, che questi sono se vogliamo dei fattori di disturbo, delle complicanze inevitabili dovute al fatto che il campo elettromagnetico ha una sua fisicità, quindi io trasmettendo un flusso di dati corro il rischio, se le cose non sono fatte nel modo giusto, di disturbare altri apparecchi, disturbare altre trasmissioni e al limite anche di essere nocivo per la salute e appunto per questo esistono delle regolamentazioni e delle norme tecniche europee, sono anche norme internazionali, noi ci focalizziamo su quelle europee. Adesso vediamo qualcosa un po' più nel dettaglio, quella che vedete è un'immagine relativa a uno studio, questo è uno studio fatto da Telecom Italia, allora si chiamava ancora Telecom Italia, dico allora perché è uno studio piuttosto datato a circa una ventina d'anni, questi sono gli studi che venivano fatti proprio agli albori della tecnologia wifi per vedere come si propagava il segnale all'interno di un'abitazione tipica, qui riconoscete una tipica planimetria di appartamento, diciamo che questo appartamento potrebbe essere ad un 100 metri quadri, quindi è una unità abitativa abbastanza tipica. Allora come si legge questa immagine? Qui abbiamo, vedete questo pallino qui, il punto di trasmissione, l'access point del wifi e poi abbiamo l'attenuazione del segnale mostrato con diversi colori. Ecco parlando di attenuazione dove abbiamo i colori freddi vuol dire che c'è poca attenuazione, quindi c'è un buon livello di segnale, man mano che i colori si scaldano il segnale si indebolisce, questo è un po' poco intuitivo perché noi abbiamo in mente le termografie, tutte queste immagini qui dove i colori caldi viceversa sono sinonimi di attività. A parte questa convenzione cromatica possiamo vedere come del resto è intuitivo che con la potenza giusta il posizionamento di un access point in una posizione centrale dell'appartamento permette una copertura piuttosto uniforme con qualche attenuazione accettabile in alcuni punti dell'appartamento, però tutto sommato una buona situazione. Naturalmente questo è un caso abbastanza semplice, se l'unità immobiliare è più complessa o se l'unità immobiliare è disposta su più livelli è chiaro che a quel punto dovremmo avere più punti di trasmissione e quindi studiarne il collocamento e verificare che la copertura sia uniforme. Qui diciamo siamo facilitati dalla situazione, in altri casi potrebbe essere più complicato. Vediamo quest'altra immagine che invece ci permette di dare le velocità di trasmissione, ecco qui vedete anche i numeri non sono molto attuali, però chiaramente in relativo noi abbiamo anche qui, qui viceversa le zone calde sono le zone più attive, le zone fredde sono quelle dove c'è meno velocità di segnale e anche qui diciamo c'è una buona copertura, insomma all'intensità di segnale corrisponde un buon flusso di dati e possiamo dire che la velocità di trasmissione è costante, poi vabbè queste sono le prestazioni che c'erano vent'anni fa, però è costante, quindi rapportando il tutto alla tecnologia attuale possiamo ottenere anche numeri più incoraggianti e avere comunque una copertura uniforme. Quest'altra invece immagine va un po' a fare l'inverso, a dire vediamo di mettere il nostro access point in un punto decisamente poco furbo qui in quest'angolino qua, chiaramente vedete che la copertura non è più così uniforme e abbiamo delle ampie zone in cui il segnale probabilmente non è così affidabile, quindi il posizionamento dei punti di trasmissione va adeguatamente studiato ed è essenziale perché se no i servizi smart non possono essere adottati e per non parlare poi delle connessioni con i dispositivi di telecomunicazione. Vediamo adesso qualche dettaglio tecnico, quindi abbiamo parlato di potenza di trasmissione, abbiamo parlato di velocità, adesso vediamo qualche dettaglio. Abbiamo anche fatto cenno a due protocolli, quelli che sono utilizzati tipicamente lo ZigBee e il Wi-Fi. Ecco qui ho fatto in questa slide un po' un sunto di tutti i requisiti normativi, ecco lo ZigBee e Wi-Fi occupano grosso modo la stessa banda sui 2,4 GHz, il Wi-Fi poi ha una successiva banda attorno ai 5 GHz, la differenza oltre al fatto che sono protocolli diversi sono anche i livelli di potenza, ZigBee è più basso come livello di potenza ed ha una massima potenza pari a 12 dBm che è rapportato in mW e corrisponde a 15,8 mW e poi ha questo vincolo di densità spettrale 10 dBm per MHz, quindi un requisito anche di densità spettrale. Wi-Fi abbiamo detto ha potenze più elevate e quindi può arrivare nella banda da 2,4 GHz, può arrivare fino a 100 mW pari a 20 dBm, più alta la potenza nella gamma 5 GHz, 200 mW pari a 23 dBm, ma questo fatto non è sorprendente, diciamo che passando da 2,4 a 5 GHz la distanza di propagazione del segnale, il segnale si attuina più velocemente con la distanza, per cui per garantire una copertura più o meno equivalente è necessario aumentare la potenza e quindi questi sono i livelli normativi. Poi questa è la massima potenza, poi abbiamo detto naturalmente il segnale deve essere canalizzato, quindi abbiamo questo che vedete è un profilo di trasmissione che deve essere poi verificato nelle prove di laboratorio, noi abbiamo quindi il nostro canale all'interno della banda 2,4 GHz abbiamo a disposizione dei canali su cui trasmettere e abbiamo a centro canale un certo livello di potenza e poi negli spazi adiacenti in termini di dominio delle frequenze abbiamo dei limiti massimi perché chiaramente è difficile contenere tutto il livello di potenza in una banda molto stretta, però dobbiamo degradare con questo profilo qui, altrimenti corriamo il rischio di andare a disturbare le stesse trasmissioni Wi-Fi perché il Wi-Fi ha una banda che poi viene canalizzata, tipicamente viene canalizzata con 20 MHz di ampiezza per canale e ci sono diversi canali che trasmettono in modo contemporaneo e questi canali essendo adiacenti possono disturbarsi vicentevolmente se questi limiti non sono rispettati, in realtà possono disturbarsi reciprocamente anche se i limiti sono rispettati perché tutti i canali non occupano omogeneamente la banda, i canali possono essere sovrapposti, sono da scegliere ma non possono essere attuati tutti contemporaneamente, quindi anche questo aspetto di canalizzazione è un punto fondamentale della progettazione della rete Wi-Fi e c'è anche la possibilità di scegliere l'ampiezza di canale, abbiamo detto l'ampiezza tipica è di 20 MHz, il canale può essere portato a 40 MHz se abbiamo esigenza su quel canale lì di una trasmissione per esempio video in cui è necessaria più banda, naturalmente diventa poi più problematica la coesistenza con gli altri canali. Vediamo adesso, parliamo di intensità di campo elettromagnetico, qui abbiamo parlato di potenze di dBm, adesso parliamo di intensità, cioè di volt su metro e qui cominciamo a fare qualche considerazione. Allora, come si rapporta la potenza di trasmissione con l'intensità di campo elettromagnetico? Diciamo che esiste questa formuletta molto semplice che vi ho riportato qui, che è quella del trasmettitore isotropo con cui possiamo modellizzare il nostro punto di trasmissione Wi-Fi. Ecco, partendo da questa formuletta, emettendo il massimo valore di potenza che sono i nostri 23 dBm pari a 200 mW, nel caso noi siamo nei canali a 5 GHz, osserviamo che otteniamo questi valori di campo, quindi 6 V per metro a 40 cm di distanza dal punto di emissione, che degradano rapidamente, direi si attenuano di un fattore 10 a 3 metri di distanza. Questa informazione è utile, come vedremo a breve, per quanto riguarda gli aspetti di protezione delle persone. Ci stavamo chiedendo che dobbiamo da un lato alzare la potenza per poter avere una buona trasmissione, non dobbiamo alzarla troppo per non creare problemi, abbiamo detto altri canali alle persone. 6 V per metro è il livello ritenuto di attenzione per la pericolosità dei campi elettromagnetici, quindi noi vediamo che questo livello è presente alla massima potenza a una distanza molto contenuta dal punto di trasmissione. I noi punti di trasmissione li abbiamo lontani, io adesso in questo momento ho un Wi-Fi che si trova a 2-3 metri da me, poi se ci sono altre interruzioni provo ad avvicinarmi, vedere se questo migliora le cose, se è solo quello il problema. Ad ogni modo sono più o meno in queste condizioni, quindi sono investito da questi 0,6 V per metro e nel resto dell'abitazione presumo ce ne siano meno. Questi sono i valori, quindi conversione da potenza a V per metro, intensità di campo. L'intensità di campo è il valore che ci introduce le due problematiche al contorno, quindi quella che è la compatibilità elettromagnetica e quella che è la protezione, la pericolosità dei campi elettromagnetici per le persone. Questa slide fa vedere un po' introduce il problema della compatibilità elettromagnetica, quindi presenza di campi elettromagnetici che possono interferire con altre apparecchiature elettroniche, con trasmissioni radio tv o Wi-Fi anche. Quali sono queste fonti di disturbo? Le fonti di disturbo sono disturbi involontari. Il nostro PC, oltre a trasmettere in Wi-Fi, ha anche un microprocessore. Questo microprocessore è azionato da segnali ad alta frequenza, con più il processore è potente e con più queste frequenze aumentano. Un segnale ad alta frequenza che si propaga su delle piste metalliche, ecco, la pista metallica involontariamente funziona da antenna, non sarà un'antenna estremamente efficiente, ma è un'antenna, quindi questo oggetto emette. Quindi se questo oggetto non è progettato correttamente, questo oggetto può disturbare magari il suo stesso Wi-Fi, o magari un'altra trasmissione, un altro Wi-Fi, una trasmissione radio. E le sorgenti di disturbo, qui potete vedere, sono tantissime. Lasciando senza scomodare gli eventi atmosferici dei fulmini, abbiamo anche funzionamenti di motori, lavatrici, elettrodomestici, inverter, quindi oggetti che azionano motori elettrici. Tutti questi apparecchi producono disturbi elettromagnetici. E naturalmente, perché tutto funzioni, esiste una normativa che i produttori devono rispettare, perché le emissioni siano contenute e gli apparecchi siano comunque sufficientemente immuni, possano resistere a campi elettromagnetici che non saranno mai nulli. Quindi questo è il tema della compatibilità elettromagnetica. Quindi qui vedete in questa slide un esempio dei limiti di emissione. Ecco, questi limiti sono dati in unità logaritmica, 40 di bimicrovolt per metro o 30 di bimicrovolt per metro. Questi sono diverse caratteristiche di apparecchi. Questi sono apparecchi che non hanno limitazione di installazione, in questo caso, quindi hanno un livello di emissione più basso. Questi più alti è un livello di emissione tollerato, ma con qualche limitazione di installazione. Ecco, naturalmente tutti gli apparecchi residenziali sono del primo tipo, quindi rispettano questi limiti più restrittivi. Altrimenti avremmo problematiche, non potremmo installarli, utilizzarli ovunque, avremmo delle limitazioni. Gli altri sono naturalmente oggetti industriali, che quindi sono collocati con qualche accortezza. Vediamo come vengono fatte queste misure. Ecco, introduciamo le prove di laboratorio. Allora, noi abbiamo, poi vi mostreremo nel video un po' più nel dettaglio, degli ambienti dedicati a questa misura. Qui vedete la camera necoica. La camera necoica è un ambiente necessario per poter fare misure di campo elettromagnetico e per fare prove di immunità, cioè irradiare degli oggetti funzionanti col campo elettromagnetico. Perché? Cosa serve la camera elettromagnetica? La camera necoica? La camera necoica è un ambiente, intanto un ambiente schermato, quindi è costruita in metallo, per cui isola il mondo esterno. All'interno della camera necoica è un'oasi di pace, non ci sono campi elettromagnetici presenti. E se io produco all'interno dei campi elettromagnetici, cioè li vado a irraggiare o un'antenna trasmittente, questi rimangono confinati all'interno, così non vado io a disturbare mentre faccio le prove. Primo requisito. Secondo requisito, vi ho detto anecoico. Anecoico significa assenza di riflessioni. Questi oggetti strani, questi assorbitori, servono a evitare che il metallo, che costituisce la struttura della camera, provochi delle riflessioni. Questo ambiente, quindi, senza disturbi esterni e senza riflessioni, quindi una sorta di osi di pace, il deserto del Sahara, il deserto del Sahara di qualche anno fa, perché adesso immagino che anche in mezzo al deserto del Sahara ci sia una trasmissione radio in corso, magari non nitidissime, ma presenti. Ecco, in questo ambiente qui noi abbiamo la possibilità di fare queste misure. E poi dopo, naturalmente, noi abbiamo la possibilità di misurare e verificare proprio quei livelli che abbiamo visti per capire se l'oggetto può essere installato senza creare disturbi, appunto, a tutte le varie trasmissioni. Parlando invece di protezione delle persone, ecco qui cambiamo livello di intensità di campo, qui abbiamo una serie di, anche qui una serie di normative, abbiamo delle normative tecniche che ci danno i limiti, i limiti ritenuti pericolosi, che sono questi qui che vedete qua sotto, e con una distinzione tra alta e bassa frequenza, in alta frequenza i limiti vengono dati in intensità di campo elettrico, in bassa frequenza in intensità di campo magnetico, quindi la bassa frequenza è tipicamente il valore di interesse, quello di 50 Hz, quindi riguarda le zone in vicinanza degli elettrodotti. Abbiamo questi valori, 10-100 microtesla come valore ritenuto diciamo soglia di pericolosità, e poi una normativa legislativa che richiede viceversa un fattore di sicurezza di 10, quindi un valore massimo di 10 microtesla, se questi luoghi sono con una certa permanenza, e un obiettivo di qualità ancora superiore, se la permanenza è prolungata e siamo in presenza di nuovi elettrodotti, quindi nei nuovi elettrodotti richiediamo un livello ancora minore, questo per quanto riguarda il campo magnetico. Campo elettrico la situazione è analoga, perché abbiamo diversi valori, 60, 20, 40 volt per metro, tra l'altro ricordatevi 6 volt per metro che abbiamo visto per prima del Wi-Fi sono decisamente inferiori, il 6 volt per metro è il valore di attenzione, quindi un fattore di sicurezza molto elevato rispetto a quello che la normativa e la scienza considera essere il livello di pericolosità, e quindi dobbiamo sincerarci che questo valore qui, 6 volt per metro per normativa italiana, deve essere rispettato, quindi sia all'interno degli edifici ad alta permanenza, quindi maggiore di 4 ore, ma anche all'esterno dove ci sono aree intensamente frequentate, quindi assolutamente questo è il valore di soglia. In aggiunta a ciò, la legislazione italiana dà tutta una serie di prescrizioni legate alla installazione, alla vigilanza e al controllo degli impianti di trasmissione, perché naturalmente noi abbiamo il nostro smartphone sempre funzionante in ogni punto di una città o anche in giro per zone campestre, noi prendiamo sempre il telefonino, quindi da qualche parte ci sono antenne trasmissive, queste antenne però devono avere dei requisiti di potenza di trasmissione tali da garantire appunto questi valori qui, e qui siamo naturalmente con potenze in gioco ben maggiori dei 200 mW del Wi-Fi, qui parliamo di alcuni Watt, alcuni kilowatt, perché dobbiamo coprire aree piuttosto grandi, però naturalmente questa potenza deve essere irradiata in lontananza per cercare di coprire un'area più ampia e non in prossimità, quindi questo è lo studio che sta dietro a queste antenne. Parlando di Catasto, ecco una cosa che mi ero dimenticato di dire, l'ente preposto per fare tutti questi controlli sono le ARPA, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, qui vi ho messo il link per l'ARPA Lombardia, se volete andare a curiosare, io sono andato e parlando del Catasto degli impianti elettrici mi sono divertito a guardare la situazione in una grande città, ecco se qualcuno di voi è di Milano avrà riconosciuto questa è la zona del Parco Sempione con Corso Sempione, che è una zona storicamente con presenza di campi elettromagnetici, qui c'è la storica sede RAI e poi ci sono altre emittenti radiofoniche, che però sono in ottima compagnia perché questi sono i pallini rossi che vedete, sono le antenne di trasmissione di telefonia mobile e quelli violetti sono le microcelle, quindi impianti di trasmissione a potenza più ridotta, quindi vedete ce ne sono tantissimi, per nostra garanzia tutti questi impianti sono monitorati, controllati dall'ARPA e viene garantito che i livelli di campo nelle zone dove passa la gente siano inferiori a quel valore lì, quindi anche men che meno nelle case. A questo punto poi ne viene che i nostri campi elettromagnetici, il nostro Wi-Fi, il nostro Zigbee assolutamente sono su ordini di grandezze inferiori a questi livelli qui. Qui c'è un'altra immagine che fa vedere un po' la diffusione, questa è più una curiosità che altro, di questi impianti, questo è un grafico di densità di potenza per chilometro quadrato per area geografica, qui avete le province della Lombardia, vedete naturalmente le zone più densamente popolate, quindi la provincia di Milano, la provincia di Monza e Brianza sono quelle che hanno una densità di potenza maggiore, appunto perché sono costituite quasi tutte da aree urbane, altre province hanno una densità minore, ma ci sono verosimilmente delle concentrazioni in aree urbane e dei punti più radi nelle zone rurali. E naturalmente come vedete, qui ci sono anche dei dati storici, vedete che gli impianti stanno aumentando a vista d'occhio, quindi è bene che questi impianti siano ben controllati e poi tra l'altro, ecco questa è un'altra informazione che volevo darvi, l'evoluzione della tecnologia passando per esempio dal 4G al 5G, fa sì che la potenza irradiata sia sempre minore, mentre prima si cercava di illuminare un'area uniforme in modo da catturare tutti i vari dispositivi, la tecnologia 5G permette di sapere dove si trova il dispositivo e quindi andare a concentrare la potenza solo laddove serve, quindi tutta questa potenza qui è decisamente inferiore a quest'altra potenza, quindi poi ci sono appunto le macrocelle e le microcelle che sono comunque stazioni che hanno una potenza in partenza diciamo con valori diversi di potenza in partenza, quindi minori potenze e più direttive, questo anche poi per un discorso di efficienza energetica, non dimentichiamo che la telecomunicazione è un servizio energivoro e va 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi anche questi aspetti sono molto importanti, per cui c'è uno sforzo proprio a ridurre le esposizioni ai campi elettromagnetici. Questa slide conclusiva vuol mettere a confronto tutti i vari livelli di emissioni, quindi queste sono le emissioni spurie che hanno questi valori qui, quindi stiamo parlando di microvolt su metro, prima abbiamo visto i dati in dBm e corrispondono a 100-200 microvolt su metro, più o meno, quindi valori veramente bassi e sono le emissioni che si misurano la distanza di 3 metri. Il wifi sappiamo, abbiamo calcolato prima, che nel peggiore delle ipotesi a 3 metri emette 0,6 volt per metro, 0,6 volt per metro, per la protezione delle persone abbiamo invece il livello di 6 volt per metro, quindi decisamente più alto, abbiamo veramente ordini di grandezza di differenti. Ok, e adesso ci prendiamo 5 minuti e andiamo a visitare il laboratorio dove vediamo un po' con qualche dettaglio in più quanto abbiamo accennato. Buona visione! Buongiorno! Andiamo a visitare il laboratorio di compatibilità elettromagnetica della BTC. Ciao Stefano! Giorgio, ciao! Bentornato nel laboratorio di compatibilità. E te, grazie! E certo che qui le cose sono cambiate, è tutto molto nuovo. Avete molto lavoro? Ne abbiamo parecchio, grazie, perché qui proviamo un po' tutti i dispositivi elettronici di BTC, quindi dobbiamo tenere sotto controllo automotica, IoT, tutto. Esatto, anche dispositivi radio, quindi... Sì, sì, dispositivi radio, perché sono i campi elettromagnetici il vero problema tecnico, cioè è complicato misurare i campi elettromagnetici. è per questo che servono attrezzature specifiche e anche ambienti di prova specifici. Ambienti di prova specifici? Ad esempio, questa camera necoica è il posto principale dove fare i test di emissione di immunità. Ah, vediamo questa camera necoica, mi incuriosisce. Certamente. Allora, all'esterno la camera è fatta di metallo che serve a schermare... Serve da schermo, di uno schermo totale. E dentro invece c'è tutta una situazione particolare. Entriamo, entra pure Stefano. Sì, sì. Eccoci all'interno della camera necoica. È un ambiente veramente impressionante, questi materiali che funzioni hanno. Ecco, la camera ha come funzione principale, come dicevamo prima, di schermare dei campi elettromagnetici esterni. Schermare dei campi elettromagnetici esterni. Dalle radio e dalle televisioni che ci sono nell'ambiente quotidiano. Ho capito, ho capito. Oh, scusa un attimo qui. Ah, vai tranquillo. Mi è arrivato un messaggio. Ah no, mia moglie che mi dice della spesa, sì, ma... Vabbè. Ma scusa, mi dicevi, i campi elettromagnetici qui non possono entrare, no? Confermo, sì. Ma adesso ho appena ricevuto un messaggio, com'è questa cosa? Eh, hai ragione, ci siamo dimenticati la porta. Ah, perché la porta aperta non scherma. Esatto. Quindi tu dici, una volta che è chiusa, qui il telefono non prende più. Il telefono non prende più, confermo. Ciò che vediamo, porca miseria, non c'è più campo, c'è ragione. Esatto. È sparito, sparito. Quindi adesso non ci disturba più nessuno. Esatto. L'ambiente ideale per la meditazione. Per la meditazione, ma anche per... Ma anche per misurare i disturbi che provengono dai prodotti. Ok, come funziona? Questo qui è un prodotto, quello che c'è qua? Questo qua è un prodotto... Un oggetto cos'è, un interruttore? Un interruttore industriale di quelli che tengono alimentato una fabbrica intera e in questo caso ha anche le funzioni di misura dell'energia elettrica. Quindi lui fa la funzione di protezione e intanto anche va a monitorare le linee corrente, tensione, cosfi, questi parametri. Quindi oltre ad essere un oggetto elettromeccanico ha anche dell'elettronica a bordo. Un'elettronica importante, quindi può emettere. All'interno troviamo un dispositivo di questo tipo che può emettere campi elettromagnetici. Abbiamo un tavolo rotante può girare 360 gradi per misurare i campi. Va a muovere l'oggetto, questo oggetto. Esattamente. Già, perché le emissioni potrebbero andare verso l'alto, andare verso il basso, riflettere. Complicato, no? Sì, anche a seconda della forma dell'oggetto. E dall'altra parte invece abbiamo l'antenna per misurare i campi. Anche in questo caso serve a misurare a diversi angoli il campo elettromagnetico. Siamo in grado di arrivare a 4 metri di altezza. Su e giù e... Bene, andiamo a vedere poi il risultato di queste misure, no? Benissimo, dobbiamo spostarci alla console di controllo. Vabbè, ritorniamo nel mondo dei campi elettromagnetici. Torniamo all'aperto. Ah, quindi questo è il risultato di tutto l'insieme delle misure. Esattamente. Questi qua sono i campi elettromagnetici emessi dall'interruttore e dalla parte elettronica di misura di contabilizzazione. E tutto l'insieme di quelle misure con le rotazioni, eccetera, viene riportato in questa curva che otteniamo il massimo valore. Il valore massimo, esatto. Ok, quindi con questa linea rossa cos'è il limite? Questo è il limite imposto dalla norma a 3 metri di distanza. e tutti i dispositivi per non interferire con gli altri prodotti elettronici posti nelle vicinanze non devono emettere campi superiori a questo livello. Questo livello mi sembra piuttosto basso. Adesso qui c'è un'unità logaritmica di b microvolt su metro, giusto? Esatto. Sono 40 dB microvolt su metro che corrispondono a 100 microvolt per metro. 100 microvolt, quindi proprio molto basso. Questi puntini qui rimarcati? Ecco, quando i valori di emissione sono, diciamo, anomali vengono misurati in una seconda fase in modo più accurato. Ok, quindi queste sono, abbiamo detto, emissioni spuri. C'è un esempio da farci vedere invece di misure di trasmettitori quindi di campi elettromagnetici che abbiamo volontariamente provocato per trasmettere dati. Esattamente. Possiamo vedere, ad esempio, un dispositivo Wi-Fi. In questo caso possiamo vedere a 2,4 giga, frequenza tipica del Wi-Fi. Il limite di potenza viene definito in 20 dBm. Ok, 20 dBm, quindi una potenza in antenna. Quanto fa 20 dBm? Tanto per dare un'idea ai nostri ascoltatori. In questo caso sarebbero 100 milliwatt. 100 milliwatt, quindi un valore piuttosto basso, sufficiente per trasmettere i dati. Grazie, è stato veramente interessante questa presentazione. Sono sicuro che interesserà molto anche i nostri ascoltatori. Bene, mi ha fatto piacere. Sono contento che sia stata utile. Va bene, ci vediamo presto. Alla prossima. Scusa il telefono. Sì, pronto? No, cioè, sì, ho visto il tuo messaggio prima. È che mi trovavo in una camera necoica. Nella camera necoica. Il campo non prende, il telefono non va. Va, va, va. Ciao, 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 ciao. Arrivo. Bene, riprendiamo la linea. Intanto vi assicuro che poi quella sera sono poi andato a fare la spesa e nulla è andato perduto. Siamo verso la fine della nostra presentazione. Rivediamo alcuni dettagli delle misure che abbiamo visto nel filmato. Dicevamo, allora, queste sono i diagrammi delle misure di emissione. Quindi qui vedete il limite normativo. Questo che vedete qua sotto è l'inviluppo delle varie misure fatte alle diverse angolazioni e alle diverse altezze dell'antenna. Quindi andiamo a cercare il massimo valore per ciascuna frequenza. E poi abbiamo i punti dove vengono, man mano che si si avvicina al limite, andiamo a ripassare, diciamo a fare delle misure più accurate con un filtraggio più accurato che è quello richiesto dalla normativa per poter vedere effettivamente, valutare la conformità. Quando il valore è molto basso è sufficiente una misura più grossolana. Questo per motivi di tempo. Sono prove piuttosto lunghe, richiedono già così qualche ora. se dovessimo fare tutte misure di quasi picco che è quella del pallino blu parleremmo di giorni. Quindi qui parliamo e qui l'esempio è relativo all'interruttore industriale aperto. Non è un apparecchio che si usa in casa, però diciamo la problematica è simile. Vi faccio vedere adesso quest'altro esempio dello stesso apparecchio però realizzato con un altro alimentatore, alimentatore switching. vediamo che la situazione a colpo d'occhio non è così rosea dal punto di vista della conformità. Abbiamo dei valori di quasi picco molto vicini al limite, qui vedete, ma anche tutto l'inviluppo è salito. Quindi il contenimento delle emissioni è spesso un qualcosa di sfidante perché soprattutto con le tecnologie switching che hanno determinate caratteristiche, determinate prestazioni da un punto di vista dell'elettronica ma possono avere queste controindicazioni dal punto di vista delle emissioni. Qui vediamo nella stessa slide il confronto, vedete che insomma la differenza è palpabile, è apprezzabile anche a vista d'occhio. Questo invece è il diagramma di irradiazione del router Wi-Fi, quell'altro apparecchio, questo è un trasmettitore, qui abbiamo altri limiti come abbiamo visto prima. Questa è un'immagine nel dominio del tempo, quindi qui vedete sulla scala temporale di secondi c'è una trasmissione continua ad un livello decisamente più alto delle emissioni spurie, quindi quelle emissioni contenute stanno da queste parti e quindi non vanno a toccare il livello di trasmissione del segnale utile. Questa è un'immagine zoomata con una scala di tempi un po' più piccola, vediamo ci sono delle frame trasmesse e dei momenti di assenza di trasmissione. Questo invece è la stessa immagine, il dominio delle frequenze, questo ricalca un po' il profilo di trasmissione che abbiamo visto prima, questo è il canale assegnato alla trasmissione, queste sono le bande adiacenti dove appunto dobbiamo rispettare un certo profilo di trasmissione. Questa invece è una trasmissione su tutta la gamma, quindi abbiamo il nostro canale dove dobbiamo trasmettere e poi gli altri canali, le altre frequenze dove non dobbiamo disturbare, qui vediamo che c'era un potenziale problema, queste sono le armoniche della portante di frequenza di trasmissione che hanno dei valori piuttosto alti, qui siamo andati vicino al limite, la misura grossolana mi dava una non conformità, la misura poi di quasi picco me l'ha fatta fortunatamente rientrare e quindi anche il nostro router può funzionare rispettando quindi il suo livello di trasmissione e andando a non disturbare i canali adiacenti. E siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati anche alla fine del nostro tempo di oggi, quindi siamo giusto in tempo. Allora, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto e spero di avervi convinto che siamo veramente immersi da campi elettromagnetici e questi sono sempre più frequenti nel momento in cui andiamo a utilizzare le funzionalità smart, dispositivi connessi e apparecchiature elettroniche, quindi abbiamo campi elettromagnetici necessari per la trasmissione, campi elettromagnetici di disturbo generati inevitabilmente dagli apparecchi. quindi questi campi vanno gestiti. Abbiamo visto, abbiamo introdotto il concetto che anche i sistemi wireless richiedono un progetto a regola d'arte, questa è una cosa che non è così intuitiva perché uno dice gli oggetti wireless io li prendo, li accendo e quelli funzionano. Abbiamo visto che funzionano ma ci sono degli accorgimenti da seguire. Anche qui vi invito per vedere dettagli maggiori su come si progetta un sistema wireless abbiamo il nostro percorso formativo dedicato. Funzionalità compresse naturalmente se andiamo verso la complessità audio, video abbiamo bisogno di velocità, affidabilità e la normativa permette di gestire tutte queste situazioni. Quindi abbiamo limiti di disturbi elettromagnetici, abbiamo limiti di potenza di trasmissione, abbiamo vincoli sulla canalizzazione e poi abbiamo dei limiti di attenzione per la protezione delle persone. Abbiamo visto come questi limiti sono ordini di grandezza differenti e quindi diciamo con strumentazione con componentistica progettata a norma non abbiamo alcun che da temere sia in termini di interferenza sia in termini di pericolosità verso la persona. Abbiamo visto come tutti questi aspetti fisici sono piuttosto complessi da gestire e da controllare e che quindi abbiamo bisogno di laboratori e di prove di laboratori di una certa complessità. Quindi la conclusione che ne viene è abbiamo a disposizione questi dispositivi diciamo il produttore serio, coscienzioso adesso se non volete comprare il nostro prodotto prendetelo anche dei concorrenti ma affidatevi a produttori che diano garanzia di qualità e soprattutto di rispetto della normativa e che facciano tutte le prove di laboratorio. Quindi diffidiamo da soluzioni plug and play io qui avevo messo a basso costo in realtà a troppo basso costo perché anche le soluzioni nostre e dei produttori seri sono a costi decisamente ragionevoli. E con questo io ho finito la mia presentazione vi ringrazio della attenzione vedo qui in chat un pallino però non vedo il messaggio cliccando su questo link questo è il link della regia quindi vedo che non ci sono domande questo significa che o sono stato estremamente chiaro o vi siete addormentati speriamo la prima e speriamo che siate ancora con noi in qualche altro momento formativo di Biticino Academy io vi saluto vi auguro una buona serata e grazie ancora della partecipazione alla prossima